Era uscito per una camminata ma non aveva più fatto ritorno. Si sono concluse le ricerche di un 78enne di Auronzo che purtroppo è stato ritrovato senza vita. L'uomo aveva deciso di fare una passeggiata domenicale nei boschi senza indicare la meta e senza cellulare. Uscito verso le 11.30, alle 16 non era ancora rientrato. Alle 18.30 le prime perlustrazioni nella zona di Scioccosta. L'intuizione era giusta ma purtroppo l'esito è stato triste. Le ricerche che hanno coinvolto una cinquantina di soccorritori tra volontari di soccorso alpino di Auronzo, centro cadore e comelico, guardia di finanza e vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 10 con il ritrovamento del corpo senza vita del 78enne in un'area boschiva.